Proseguono le manifestazioni estive organizzate dall'amministrazione comunale di Castellalto, il clou ovviamente rappresentato alla manifestazione che si svolge da tanti anni oramai a Castelbasso. Sì, è un bel calendario, è un calendario che ha coinvolto tutte le associazioni culturali e non che organizzano per l'estate di Castellalto una serie di manifestazioni. Castelbasso è la manifestazione più importante, culturalmente più importante, con una mostra che tra l'altro partirà il 21 di luglio prossimo e con anche una serie di iniziative culturali all'interno che poi verranno adeguatamente presentate. Poi ci sono tante altre manifestazioni, l'altra più importante è nell'altro borgo del capoluogo del Castellalto, il festival delle birre che partirà il 4 di agosto. Anche questo è diventato un appuntamento tradizionale del vostro territorio? Un appuntamento che unisce un mix di pubblico di giovanissimi, ma non solo giovanissimi ma anche di appassionati e innamorati della birra che ogni anno in tanti visitano il nostro borgo. Poi altre manifestazioni che riguardano lo sport, l'aggregazione in genere. Un calendario che tocca quasi tutto il territorio e tende a coinvolgere non solo i residenti ma anche a essere un po' un punto di riferimento, di attrazione, anche per turisti e altre persone che avremo l'onore di ospitare nel nostro territorio.